Un video dal cesso, non sono uno, ho i pantaloni, ma è questo che se non vi invitate, un video dal cesso perché se siete di nenni avete 8 il cazzo, avete toccato il fondo, 1 a 0, stai vincendo, stai giocando bene, nel secondo tempo non hai fatto un cazzo per attaccare per una traversa su pulizione, hai giocato di merda, davanti a 80.000 spettatori, dovete per ricordarvi tutto, 1 a 1, dovete per ricordarvi tutti, tu cari zaghi, hai 8 la micchia, hai 8 il cazzo, non sei più l'allenatore da Inter, battene via, dovete esonerare, lo altro che la reazione, quale reazione dobbiamo avere noi, non venire più allo stadio, 80.000 spettatori, 80.000, 80.000 spettatori, neanche per un Inter Mario in Monaco, tutti questi spettatori qua, 80.000 zaghi, in tribuna con la camicia, battene via a pezzette, avete toccato il fondo, basta, 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 meno 8 nella prima classifica all'ottobre, vi dovete vergognare tutti, e quando c'entra Lukaku, c'entra Brozovic, c'entra che non c'è più un'anima in campo, stai vicino a 0, per puro caso, perché ha fatto un gol, l'Inter, bella la costruzione, vale, Rui Patrizio, potrà fare molto di più, hai fatto un gol per puro caso, ti sarò ben dato per 90 minuti restanti, e neanche la voglia di reagire, di fare bene il pareggio, siete vergognosi, siete vergognosi, i cambi, sempre all'ultimo, al 74, dove ne fatti i cambi, sei vergognoso, sei vergognoso, sei vergognoso, basta, hai toccato il fondo, io accetto tutto, accetto di prendere contro il mina, perché è bravo, si riprende contro la Lazio, ma qua abbiamo perso un'altra partita, la quinta o la quarta, in due mesi, abbiamo meno punti, una squadra retrocessione, vi dovete vergognare, vi dovete, dovete vergognare, ho fatto fare ancora, sbogli tutto solo, andarvi, ci immobile, su voi di male, andarvi, ci sei fatta una dormita, spero, sull'azione, ma storia anche, qua non c'è più sfido di squadra, qua bisogna cambiare quello che c'è in panchina, perché non darà più nulla, se non continuate a tenere, altro temere di reazione, qua due settimane, sprofondi al quindicesimo posto, così carizzati, mi dovete vergognare tutti, mi dovete vergognare tutti, con di marcellona le prendi sette così, con di marcellona le prendi sette così, adesso cambiatevi l'allenatore, voglio la dire, voglio stagli, voglio l'allenatore con le palle, che dia due calci in cura a questi bastardi, perché siete degli indetti, questi sono i bastardi, indetti e vergognosi, perché questo siete, soprattutto tu, carizzati che sei di panchina, tu sei l'anima della schifezza, l'acqua più schifo, neanche la voglia di vincere per Bruno Arena, per Bruno quello che è in casa dell'Inter, ma anche per 0, 80 mila spettatori, vi dovete vergognare tutti, e parlo bene a prenderci per il culo, perché noi facciamo schifo quest'anno, quest'anno abbiamo una squadra di merda, abbiamo una squadra da Scunetto, abbiamo una squadra da Europa, se va bene Europa League, l'Europa League, e non c'entra Lukaku, perché Lukaku qua neanche i viacoli può fare Lukaku da solo, qua siamo l'allenatore all'altezza, i zaghi non è dall'Inter, i zaghi, la Lazio, la Roma, non è dall'Inter il zaghi, lo capito? Non è dall'Inter, detto ciò, io vi saluto, ovviamente alla Roma che ha fatto una grande partita, di intensità e di coraggio, davanti a 80 mila spettatori dell'Inter, 80 mila spettatori, non 10 mila, 80 mila, ai 18 di sabato, come gente che di sabato potrebbe andare fuori, potrebbe andare al mare, potrebbe andare dove cazzo vuole, dovuto avere voi, ma salite con i raghi che non siete a... Sì, per favore, salito.